Tuo padre ti voleva molto bene e non si era mai perdonato di averti mandato in collegio Mia madre e mia zia? Tua madre e tua zia sono legate ad uno strano affetto da uno strano rapporto E chi si è preso cura di me? La verità, professore, per capirla bisogna essere ingenui Sono certa che abbiano ucciso mio padre Vai, melograno! L'importante è non bere mai quello che ti offrono gli sconosciuti Soprattutto se donne